Valentina Bertani, Valentina Bè, insomma è un stra piacere per me, a parte che era un po' che non ci parlavamo, ti ho seguito, ho visto che a Venezia hai presentato nelle giornate degli autori il 7 settembre il tuo film La timidezza delle chiome, primo lungometraggio, giusto? Volevo sapere tutto di questa storia, intanto insomma, bella anche perché vai a parlare di quelle che sono, se vuoi, delle minoranze, delle disabilità che continuano a essere molto sottorappresentate, ce ne occupiamo anche in comunicazione, magari dopo ti chiederà un parere, sai che anche la DCI fa un premio equal proprio per promuovere, diciamo, invece la giusta rappresentazione, però oggi concentriamoti su di te, raccontami tutto, da dove nasce l'idea, come la coproduzione Israele-Italia, quale l'emozione, vai! Allora, l'idea è venuta casualmente, nel senso che io ho incontrato questi due gemelli omo zigotti, che per me sono bellissimi, hanno un'estetica particolare, vabbè sicuramente li avrai visti, li avrete visti, E quindi sembravano usciti da un film del cinema indipendente americano, di Larry Clark, di Harmony Corrine, che poi fa parte di tutto il mio immaginario, che mi ha formata, E li ho fermati, camminavano sui navigli, li ho fermati per chiedere se fossero maggiorenni, se volessero fare qualcosa con me, qualcosa con me intendevo un audiovisivo, un videoclip, un fashion film, E loro hanno continuato a camminare, non mi hanno risposto, mi hanno guardata e hanno continuato a camminare, tenendosi per mano. Lì ho capito che probabilmente avevano una disabilità intellettiva, l'ho capito subito, insomma, perché avevo già avuto esperienza con dei ragazzi con disabilità intellettive, E li ho lasciati andare, salvo poi domandarmi se non avessi fatto andare anche una storia, insomma, se non avessi perso un'occasione. Per cui ho chiesto sui navigli, negozio per negozio, bar, tabaccheria, gelateria, se conoscessero questi due ragazzi. E per fortuna i gemelli Benjamin e Joshua sono i figli di Sergio Israel, che è l'ex proprietario delle scimmie, che lo saprai sicuramente, è un locale storico di Milano, e quindi insomma erano molto conosciuti sui navigli, per cui in tempo record, cinque minuti, mi hanno dato il numero della loro mamma. Quindi mi sono trovata con questo foglietto e senza sapere bene che cosa dirle. Le ho telefonato e le ho detto, signora, io sono Valentina Bertani, ho visto i suoi figli per strada, ho chiesto il suo numero di telefono in giro, faccio la regista, vado sul mio sito, guardo i miei lavori, se le piacciono i miei telefoni. E quella chiamata è arrivata ed è stata l'inizio della nostra storia. Meraviglioso, ma quindi la storia l'avete scritta un po' a quattro mani, con la famiglia, con loro, come ecco, proprio lo storytelling del tutto? No, in realtà la storia, poi da quel momento in cui lei mi ha richiamato, abbiamo fissato un appuntamento, e io a quell'appuntamento sono andata con dei gelati e con gli sceneggiatori con cui collaboro da tanti anni, per cui ho detto, ragazzi, io non so che storia abbiano questi gemelli, però andiamo a scoprire se c'è qualcosa di interessante da raccontare. Quindi siamo andati nella loro casa di Cusago e da lì è cominciato tutto, per cui in realtà è scritta in sei, quattro sceneggiatori più due gemelli. In realtà, sì, la famiglia è pochissimo, perché poi c'è proprio anche nel film, si racconta questo desiderio di emancipazione di Benjamin e Joshua, per cui abbiamo scritto più con loro, che poi è scritto, ma ha anche una componente documentaristica fortissima, nel senso che poi si parla di un ibrido. Infatti ti volevo chiedere, proprio quest'anno che il Leone d'Oro è andato al documentario della Poitras, che differenza c'è, secondo te, tra film e documentario? Ma secondo me il documentario è in evoluzione costante in questo momento storico, nel senso che sì, ha senso fare questa divisione in alcuni casi, non sempre. Per esempio, se parliamo di tutto il cinema di Minervini, qual è il confine tra cinema e documentario? Qual è la finzione? Qual è la realtà? Quindi anche in The Wolfpack, per esempio, insomma, ci sono tanti modi di raccontare una storia e sicuramente sul documentario si sta sperimentando tantissimo. E anche questo Leone d'Oro, come dicevi tu, insomma, di Nangoldi, è un esempio di come il documentario stia sempre prendendo più piede anche a livello di riconoscimenti internazionali. Ricordiamo intanto che, insomma, il tuo film sarà visibile a fine mese, il 30 mi sembra farai un anteprima agisto, ovviamente solo sul vito, però poi da fine anno, massimo gennaio 2023, chiunque lo può andare a vedere nelle sale. Allora, in realtà l'anteprima agisto fa parte di un programma che si chiama Le vie del cinema, per cui no, non è solo su invito, nel senso che è possibile comprare la cinecard o acquistare biglietti singolarmente. Ottimo, quindi chiunque può acquistare il biglietto e venirlo a vedere già il 30 di settembre. Assolutamente sì, poi andremo a Roma, poi faremo degli altri festival che non posso ancora dire, però comunque siamo ancora in una fase totalmente promozionale anche perché abbiamo una distribuzione fantastica, sia a livello proprio professionale che a livello umano, che è iWonder, che sta lavorando benissimo sul progetto. Poi parliamo anche a livello tecnico, insomma, di quanto è complesso oggi e produrre un film della tua coproduzione Italia-Israele. Ma prima, la cosa che mi preme, secondo te, cosa vuoi che lasci dentro le persone che vanno a vedere questo film? Cosa hai voluto scatenare o suscitare? Ma io credo che sia un'occasione ripetibile per gli spettatori di stare a contatto, quasi forzato, con due adolescenti con una disabilità intellettiva, nel senso che spesso ci priviamo anche di questa possibilità, di investire del tempo per scoprire delle cose nuove. e delle persone nuove, delle personalità inaspettate e non scontate. Per cui io credo che l'esperienza del film sia proprio passare 96 minuti a contatto con i gemelli Israel, che non sono solo due ragazzi con disabilità, sono due adolescenti che hanno dei desideri, delle pulsioni, che sono maleducati, riverenti, come tutti gli adolescenti del mondo. È una storia questa di un coming of age. Vale, entriamo nel merito, insomma, di Colmer. Cos'è oggi voler produrre un proprio film? Difficilissimo? Difficilissimo, sì. Soprattutto se si parte dall'advertising, se si parte dai videoclip, dai fashion film. Insomma, è difficile se si parte da un mondo che è molto diverso da quello del cinema, nel senso che sicuramente chi vive, abita a Roma, respira magari un ambiente più legato a questo tipo di arte. Invece noi che comunque stiamo a Milano, facciamo altro tendenzialmente, nel senso veniamo dai commercianti. Per cui anche riuscire a convincere una realtà milanese, che poi totalmente milanese non è che dia viva in questo caso, a investire soldi e tempo sul lungometraggio non è stato facilissimo. In Israele, perché c'è una parte del lungometraggio che è girata Tel Aviv, non voglio spoilerare troppo, però noi siamo partiti con una produzione 100% Italia, per poi invece aprire un varco su una coproduzione internazionale. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto un market che è il When Is Meets West e abbiamo vinto con il miglior rough cut. Abbiamo vinto e si aveva la possibilità durante questo market di fare delle richieste per poter finire il lungometraggio. Questo è il mio gatto, che saluta tutti. E noi abbiamo chiesto ai produttori israeliani se fossero interessati a coprodurre la timidezza delle chiome. e quindi abbiamo trovato una coproduttrice che è l'Ishira, che è la produttrice di Movie Plus, che poi è entrata in coproduzione al 20%. Abbiamo preso un fondo israeliano, noi veniamo comunque anche da un finanziamento ministeriale per l'Italia. Abbiamo vinto i selettivi. Prima di chiederti ovviamente dopo questa esperienza con il lungometraggio, cosa hai nel cassetto se stai già pensando ad altre cose. Dal tuo punto di vista, ecco, rispetto alla rappresentazione, all'inclusion, alla diversity, in comunicazione c'è ancora molto da fare? Cosa si potrebbe fare? In che direzione? Dopo l'esperienza poi che hai avuto? Sì, c'è ancora molto da fare. Forse c'è ancora troppo da fare in questo momento, nel senso che si fa proprio fatica ad inserire delle minoranze o delle persone, nello specifico delle persone con disabilità. È veramente faticoso inserire il livello di cast nei commercial, perché comunque si trova una resistenza da parte del controcampo, che secondo me tante volte è più una paura della paura, nel senso è una paura un po' infondata. A volte le agenzie hanno paura dei clienti e i clienti hanno paura dei fruttori, per cui si crea un'equazione a ripetere, per cui non c'è questo step che invece bisognerebbe fare, nel senso che bisognerebbe fare questo piccolo passo per includere e non escludere, per una questione di rappresentazione. È importante rappresentare tutti i prodotti, che sono quelli che noi poi vendiamo con i nostri audiovisivi, vengono consumati da tutti. Cioè le persone con disabilità sono il 15% della popolazione mondiale e noi non possiamo dimenticarcelo. Hai ragione perfettamente. Tra l'altro insomma, proprio parlando con Dette, ricordi che all'epoca che fu, perché parliamo di disabilità, però abbiamo anche tutto il tema delle donne, parliamo di quante poche donne alla regia, le cose stanno, devo dire, cambiando un po', però siamo lungi, prendi la campagna Wind, no? Con il gamer, come si chiama, Tuberanzo, se non sbaglio, che ha giocato con una voce da donna, ottenendo degli imperdi, non è riuscito a finire, insomma. Quindi c'hai molto da fare, hai perfettamente ragione, e azioni che vanno in questa direzione, come il tuo film, non possono che fare bene. Io spero che ce ne siamo sempre di più, spero che non sia un unico, come spero di riuscire anche in pubblicità a rappresentare sempre più minoranze, e non solo io, che anche i miei colleghi proprio si impegnino a fare questa cosa. E adesso, dopo questo film, raccontaci. E adesso, dopo questo film, intanto ho ripreso a girare un po' di pubblicità nell'attesa che parte dal mio lungometraggio nuovo, che è già di sviluppo, che è di finzione. Hai già il contenuto, la storia? Ho già la storia, ho già la sceneggiatura, e sarà una corregia. Ma c'è un po' spoiler il contesto, ma diciamo, quello che ti posso dire è che è una storia ambientata negli anni 90, per cui l'immaginario è molto pop, è molto saturo, l'estetica è quella proprio degli anni 90, però si basa tutta la narrazione su una storia vera, che abbiamo vissuto io e mia sorella da bambine, in un'estate super particolare, e quindi sarà una corregia con mia sorella. Lo stiamo scrivendo insieme io e lei, e una sceneggiatrice che si chiama Maria Sole Limodio, con la supervisione, sceneggiatura di Barbara Alberti. Noi vabbè, aspettiamo anche quello, ma intanto, devo dire, ci diamo appuntamento, a chi il 30, o altrimenti a chi nelle sale, insomma, a fine anno, per vedere la timidezza delle chiome. Grazie Vale, e buon tempo a tutti.